Bella apriette e bentornati in questo bellissimo video. Ragazzi questo video sarà un video in cui breve, in cui vi dico che dall'11 al 15 aprile io non farò video. Il motivo è che fossimo in Francia con la scuola. Scusate per questo avviso così un po' all'improvviso, ma non posso, ecco, avvistare i video. Ho provato centinaia di volte a fare qualche video, ma non ci sono riuscito. Il motivo è che in pratica non trovo il tempo mai di fare qualcosa. Quindi non riuscivo a fare video, o almeno non riuscivo a fare niente, ecco. Mi piace molto perché ho tentato in tutti i modi di fare qualche video. Però sono tutti falliti, quindi diciamo che è stata inutile. Ragazzi, vi dico che vorrei ricominciare a fare i video velocemente, quindi tipo domenica ne farò vari. Però una cosa che vi dico che è molto importante è che ben domenica pomeriggio farò live speciale di 50 iscritti. Quindi mi ringrazio per stare in questo traguardo. Comunque per questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! Ciao! 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 Ciao!